Studiare le materie umanistiche. Ha senso? Ha ancora senso oggi studiare appunto letteratura, arte, storia? E questa è la domanda che ci poniamo oggi e a questa domanda proveremo a dare una risposta. Salve a tutti letterati e letterate, bentornati su questo canale. Oggi appunto, come abbiamo appena detto, ci occuperemo non tanto del video di storia, quanto appunto di una questione che può interessare chiunque arrivi su questo canale. Ovvero, ha senso ancora oggi studiare le materie umanistiche? Mi pongo questa domanda perché in realtà è una domanda che si pone chiunque si affacci al mondo dell'università. Spesso e volentieri appunto i giovani che si trovano a dover scegliere la facoltà universitaria pongono appunto domande di questo tipo o sento fare questi discorsi tra chi è già uscito dall'università e si approccia al mondo lavorativo. Chiedersi se ha senso studiare qualcosa non ha senso. Cioè, non esiste una motivazione unica o più motivazioni che possono spingere una persona diversa rispetto a tutte le altre a studiare qualcosa anziché qualcos'altro. L'università è un percorso lungo e faticoso, minimo cinque anni in cui dovrete studiare argomenti che possono anche non interessarvi e sottoporvi costantemente a delle prove per superare appunto delle verifiche. In tutti i percorsi universitari ci sono degli esami più o meno facili, più o meno difficili, più o meno piacevoli. Ora, quando si sceglie la facoltà universitaria, se si sceglie un corso per cui non si è portati o per cui non si ha una passione, questa è la prima motivazione di fallimento a livello universitario, di abbandono prima del conseguimento del titolo. Per cui la prima risposta che possiamo dare a questa domanda, se ha senso ancora oggi studiare le materie umanistiche, a livello individuale possiamo dire ha senso se è questo che vuoi fare. Ma oggi viviamo anche in una società in cui ciascuno di noi è un ingranaggio di un meccanismo più grande e dobbiamo cercare il modo di conciliare le nostre passioni all'utilità nel mondo del lavoro. A tal proposito spesso appunto si dice che le materie umanistiche o comunque le lauree umanistiche non abbiano sbocchi lavorativi o perlomeno ne offrano molti di meno rispetto ad altre lauree. Questo è vero, ma bisogna considerare una cosa quando si fa questo tipo di riflessione, ovvero scegliere la facoltà in cui studiare in base alle possibilità, alle prospettive lavorative, non è neanche questo un criterio utilissimo, perché nel caso in cui anche riuscissimo a completare tutto il percorso di studi e a laurearci anche magari a stento o con un voto discreto, poi ci troveremmo tutta la vita a fare un lavoro per cui abbiamo sì studiato, ma che odiamo. Che le materie umanistiche non offrano le stesse prospettive, gli stessi sbocchi rispetto alle materie scientifiche? È vero, ma bisogna aggiungerci un grosso ma. La società odierna è in continua, continua, continua evoluzione. Siamo tutti più o meno specializzati in qualcosa e soltanto in quel qualcosa. Quello che si perde è l'avere un approccio un po' più ampio, un quadro un po' più generale della situazione. In questo, al contrario, le materie umanistiche offrono un importante spunto, non un insieme di conoscenze vere e proprie, ma un insieme di abilità che possono aiutarci e che sono molto utili anche nel contesto lavorativo della società contemporanea. Mi riferisco, per esempio, alle risorse umane, per cui appunto i laureati in materie umanistiche vengono ricercati. Ora, è chiaro che non tutti possiamo diventare responsabili delle risorse umane, però è anche vero che questo non è che un esempio, è che dobbiamo pensare allo sviluppo tecnologico non di qui a vent'anni, trent'anni, per cui ci risulta inimmaginabile quello che potrebbe accadere. Oggi possiamo al massimo farci conti in base ai lustri e paradossalmente quello che rimarrà della capacità umana sono soltanto due cose. La manualità, perché che se ne dica un computer, una macchina non riuscirà mai a creare qualcosa di originale, è soprattutto l'intelligenza. La capacità di ragionamento, l'empatia, questo la macchina non ce l'avrà mai. Una laurea in materie umanistiche può aiutarti ad affinare queste abilità. Ma soprattutto oggi viviamo in una società che ci riempie di informazioni. Pensateci bene, informazioni dallo shampoo che utilizziamo, quindi con tutte le etichette, o quando andiamo su internet siamo bombardati di immagini, di testi, di video. Serve veramente tantissime abilità per elaborare questo genere di informazioni. Abilità che non tutti hanno e i dati che ce lo confermano sono proprio quelli sul cosiddetto analfabetismo di ritorno. Immaginandoci un futuro distopico possiamo suddividere la società tra chi riesce a selezionare, capire e riassumere le informazioni e chi non ci riesce. In base a questo le lauree umanistiche possono offrire, così come anche tutte le altre discipline, un aiuto nel saper costruire conoscenza. E non è detto che nella società del futuro, nella società che ci sarà tra 5, 10, 20 anni, questo non sia una discriminante. Anzi, forse è proprio questo aspetto che dividerà e selezionerà le competenze e le abilità di ciascuno di noi. Qualsiasi titolo di studio o comunque anche una ricerca, anche un insieme di ricerche da autodidatta offre non soltanto una serie di abilità specifiche, ma tutto un apparato di abilità collaterali che ci saranno utili nella vita di tutti i giorni. Ed è questo che effettivamente rende una persona adattabile, flessibile, in grado di sopravvivere in più ambienti. Per questo quando ci si chiede se ha ancora senso o se è utile studiare materie umanistiche, la domanda non ha molto senso. Non è utile per nessuno di per sé. Niente è utile per nessuno. Tutto va valutato in base alle esigenze, alle competenze e all'abilità del soggetto. Di per sé un titolo di studio poi non significa nulla. Titolo di studio e intelligenza ovviamente non camminano di pari passo, ma il titolo di studio, o perlomeno il percorso di studi, moltiplica le capacità offerte dal terreno fertile dell'intelligenza. Per cui una persona intelligente che non ha studiato è una persona intelligente, ma con qualche abilità in meno comunque non potenziata rispetto a quanto avrebbe potuto fare intraprendendo un percorso di studi. Del resto si può essere completamente stupidi pure avendo studiato, sia in questo caso persone più o meno colte, ma non intelligenti. In quel caso qualsiasi percorso di studio sarebbe completamente inutile. E' pur vero che anche in questo caso una persona stupida che ha studiato è comunque più avanti di una persona stupida che non ha studiato. In un mondo in cui probabilmente il 90% dei lavori sarà soppiantato dall'utilizzo di computer o di macchine, quello che farà la differenza è la capacità intellettuale e il modo in cui riusciamo a potenziarla. E la capacità mentale può essere potenziata solo attraverso lo studio, qualsiasi studio, anche individuale. Di conseguenza, per dare una risposta definitiva, visto che spesso a questi video ci arriva chi è in procinto di scegliere la propria facoltà universitaria, ha senso o è utile studiare le materie umanistiche? Bisogna considerare le varie alternative. Alternativa numero uno. Non studio quello che vorrei, se anche volessi laurearmi in lettere o in storia o in storia dell'arte. Se non lo faccio perché ho paura poi di rimanere disoccupato, allora cosa faccio? Scelgo un'altra facoltà per cui magari non sono portato e di cui non ho alcun interesse. In questo caso o abbandonate dopo il primo anno o comunque finirete il percorso di studi, ma non riuscirete in ogni caso ad avere soddisfazione personale. Al massimo riuscirete comunque a barcamenarvi nella vita di tutti i giorni con un lavoro che però magari odiate. Due. Posso scegliere di non studiare nulla. In quest'ultimo caso la scelta è legittima, ma devo essere consapevole che mi perdo una serie di abilità collaterali appunto allo studio, al percorso universitario, che potrebbero al contrario essermi utili se solo decidessi appunto di proseguire nel percorso universitario. E soprattutto la terza opzione è studiare materie umanistiche consapevolmente. Cioè consapevoli del fatto che, uno, non diventerete grandi scrittori, grandi giornalisti, se non pochissime rare eccezioni. Due. Sì, inserirvi nel mondo lavorativo può essere un po' più complicato rispetto agli altri. Tre. Considerare di sviluppare e di affinare tutte quelle abilità che possono in qualche modo aiutarvi poi ad inserirvi in un contesto lavorativo anche sulla base di quello che avete imparato. Studiare storia dell'arte affina il senso estetico. Può dunque essere utile nella comunicazione su social media. Saper scrivere bene è un'abilità che non tutti hanno e anche questa può essere utile in un contesto appunto dove la comunicazione è importantissimo. La possibilità di riuscire a ricondurre tutti gli eventi, o comunque buona parte di essi, in un contesto generale e di comprendere la realtà, sebbene possa sembrare scontata e banale, in realtà i dati ci dicono che non è così. Ragion per cui ha senso studiare le materie umanistiche? Sì, ma come in ogni bottiglia di alcolico in cui troviamo scritto bevi consapevolmente, anche qui, prima di iniziare l'università, bisogna studiare consapevolmente. Cioè consapevoli del fatto che in ogni caso affineremo delle abilità che ci saranno utili anche in cose che non avremmo mai pensato. Quindi per corsi lavorativi e di studio completamente diversi rispetto a quanto c'eravamo immaginati. Bene cari letterati e letterate, per oggi è tutto. Io vi saluto, vi ricordo gli appuntamenti di settimana prossima, lasciate un like, iscrivetevi al canale e buona domenica.